Avviati a Paceco, quattro cantieri di servizio con l'impiego complessivo di 43 disoccupati. Gruppi di lavoro comprendenti le categorie 18-36 anni, 37-50, ultracinquantenni e portatori di handicap hanno iniziato ad operare nei programmi di intervento, decoro urbano ed edifici comunali, servizi di pulizia, aree urbane, verde pubblico e servizi di guardiania in edifici e strutture comunali. Al termine di una procedura attivata dall'amministrazione per favorire il livello occupazionale locale. Avevamo programmato di dare lavoro a 90 con cittadini, ricorda il sindaco di Paceco, Viaggio Martorana, ma la regione ha ridotto i fondi, stanziandoli in proporzione alla popolazione e senza tenere conto dei progetti approvati. Il finanziamento dei quattro cantieri per un totale di 111 mila euro da parte del Dipartimento regionale alla famiglia ha consentito l'occupazione di 43 pacecoti individuati in base alle graduatorie stilate per ciascuna categoria. Con l'avvio dei cantieri di servizio, sottolinea infine il primo cittadino, possiamo dare ossigeno a 43 famiglie che vivono in condizioni di disagio attraverso un'entrata mensile che, seppure non superiore a 500 euro, potrà contribuire al sostentamento dei nuclei familiari in questo periodo di crisi. Accordo tra il Comune di Alcamo e l'Università di Palermo. Studenti e docenti della Facoltà di Architettura supporteranno l'amministrazione comunale in scelte inerenti alla riqualificazione del centro storico. Nel Mirino anche le scelte inerenti al tira e molla per la pedonalizzazione del corso stretto. Prevista anche una formazione per i dipendenti comunali. Riqualificazione urbana ed in particolare del centro storico, formazione del personale interno, sono questi due principali obiettivi sui quali sta scommettendo il Comune di Alcamo che ha dato vita ad un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. È stato stretto tra le parti un accordo che vedrà proprio la cittadina alcamese al centro di un progetto che si svilupperà su due direttrici. La prima è quella anzitutto di porre in essere delle basi di progettazione per rivitalizzare e abbellire il centro storico della città perennemente al centro delle polemiche e per una serie di problematiche. Dalla carenza dei parcheggi alla sempre contestata isola pedonale che davvero non riesce a mettere d'accordo nessuno. Tantissimi gli esperimenti messi in campo, l'ultimo dei quali nel periodo natalizio, ma mai nulla di definitivo a dimostrazione che ancora non sembrano esserci le idee chiare sull'impostazione da dare a quello che dovrebbe essere il salotto della città. Negli ultimi anni si è provato a chiudere 24 ore su 24, parzialmente nelle ore premeridiane, oppure soltanto nei weekend e festivi. Eppure, dopo tanto tempo, nessuna decisione definitiva a confermare che la questione è scottante e nessuno pare abbia il coraggio di assumersi la responsabilità del caso, lasciando però di fatto tutti scontenti. Il Dipartimento di Architettura, affermano il Sindaco Sebastiano Bonventre e la Giunta, nell'atto deliberativo di approvazione dello schema di protocollo, sostiene attività di studio per la conoscenza e l'approfondimento della cultura del progetto negli aspetti specifici dell'architettura, dell'urbanistica e del design, in rapporto alle reali esigenze espresse dalla società e dal territorio. Per la formazione nell'ambito dell'urbanistica, il Dipartimento promuove la formazione professionale in rapporto con i soggetti pubblici istituzionali e agli enti locali che svolgono attività di manutenzione, recupero di qualificazione e trasformazione urbanistica e territoriali. In particolare, per la valorizzazione del centro storico, il Comune di Alcama intende instaurare un rapporto di studio e confronto fra proprio il personale tecnico con il Dipartimento, che si avvarrà dell'opera degli studenti e del laboratorio di urbanistica del quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura, condotto dalla docente Angela Alessandra Badami. Il Comune alcamese si impegna ad accogliere gli elevi del laboratorio, a mettere a loro disposizione la propria documentazione ed a favorire il confronto con il personale tecnico interno. Il protocollo d'intesa avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti. Il presidente Wimek Trapani Giuseppe Aleo, insieme a Copagri, esprime la propria preoccupazione ma anche il proprio sconcerto relativamente al fatto che ieri il Tardellazio si è pronunciato a favore del governo riguardo al versamento dell'Imu agricola, obbligando di fatto gli agricoltori a pagare una tassa retrattiva per il 2014. C'è da sperare nell'ulteriore sospensiva del prossimo 4 febbraio, afferma Aleo, per cui anche se i contribuenti dovranno pagare una sanzione paia un decimo del 30%, si potrebbe consigliare, dice, di rinviare il pagamento dell'Imu con scadenza il 26 gennaio. Ovviamente ognuno è libero di decidere se pagare o rinviare. Il governo ha tallonato l'Anci chiedendo di ritirare il ricorso promosso al Tardellazio per evitare un buco di bilancio da 350 milioni di euro per il 2014. Non c'è stato bisogno perché il Tardellazio è venuto in aiuto e ha salvato il governo per sanare un debito nato dalle proprie inefficienze. Gli errori del governo, dice ancora Aleo, saranno sanati dagli agricoltori per pagare gli 80 euro concessi ad una parte dei lavoratori italiani. Anche all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani possibile l'interruzione di gravidanza non chirurgica. Appello del primario di ostetricia e ginecologia, secondo il quale il ricorso al cosiddetto aborto farmacologico può contribuire a debellare il fenomeno degli aborti clandestini. Occorre informare il più possibile le donne che anche in provincia di Trapani vi è un'opzione non chirurgica per chi vuole interrompere la gravidanza. Lancia un appello accorato il direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Sant'Antonio Abate di Trapani, Tommaso Mercadante, unico medico ospedaliero, non obiettore dell'azienda sanitaria provinciale trapanese. Infatti l'aborto farmacologico, aggiunge, è certamente molto più sicuro di quello chirurgico, non necessitando di ricovero né anestesia. La decisione va presa entro la settima settimana. Occorre semplicemente recarsi presso i consultori o direttamente all'ambulatorio dell'ospedale. Tutto si svolge nell'arco di 48 ore, tramite la somministrazione alla paziente di alcune compresse che nel 99% dei casi comportano un esito positivo e solo nell'1% la necessità di raschiamento. Invece ancora molte donne, evidenzia mercadante, continuano a ricorrere all'aborto chirurgico. È precisa, numeri alla mano, che nel presidio ospedaliero trapanese, in questo primo anno su circa 400 interventi di interruzione della gravidanza, la metà circa avviene sempre per scelta delle donne in maniera tradizionale, percentuale ancora troppo alta, secondo il primario. Al contempo, all'interno del nosocomio, avvengono circa mille parti all'anno. Una maggiore conoscenza di questa via farmacologica, conclude, contribuirà ad estirpare la piaga degli aborti clandestini, anche perché tutti i trattamenti avvengono nell'assoluto anonimato, compreso nel caso di minori. L'aborto farmacologico aiuta le donne nella loro scelta, nel rispetto della legge 194, afferma il direttore generale dell'ASP, Fabrizio De Nicola, che ricorda comunque che non si tratta di un farmaco contraccettivo, ma abortivo. L'ufficio Acquedotto del comune di Mazzara del Ballo fa sapere che l'Enel ultimerà entro oggi i lavori di ripristino dell'impianto elettrico del Pozzo di San Nicola, oggetto nei giorni scorsi del furto di rame e di un trasformatore che hanno provocato disagi, seppur minimi, nell'erogazione idrica nella zona est della città. La situazione pertanto domani tornerà alla normalità. L'amministrazione comunale coglie l'occasione per ribadire che nel caso di disagi dell'erogazione idrica derivante da guasti alla condotta o ai pozzi, le segnalazioni possono essere effettuate anche all'indirizzo mail del sindaco Cristaldi o sulla sua pagina Facebook. Il comune di Partinico, a risparmio diversi uffici, si trasferiscono nei locali dell'ex tribunale, appena soppresso via la locazione di un intero edificio. In cassa resteranno 50 mila euro all'anno. La spending review comincia concretamente a dare i suoi segnali al comune di Partinico. In questi giorni sono in fase operativa i traslochi degli uffici che al momento sono allocati nell'edificio di Via Genova. Gradualmente si stanno trasferendo tutti i settori. Al momento ha quasi completato la migrazione il comando dei vigili urbani. Presto lo seguiranno il settore verde ambiente il settore tributi. È infatti in fase di dismissione all'utilizzo dei locali ubicati tra le Via Genova e Catanzaro per cui il comune ogni anno sborsa per l'affitto all'incirca 50 mila euro. Il contratto non è stato rinnovato con i proprietari dell'immobile proprio per effetto di questo programmato trasloco. Tutti questi uffici saranno sistemati nell'edificio di proprietà comunale che un tempo ospitava la sezione di staccata del tribunale, oggi smantellato per volontà del Governo nazionale in seguito ad una sorta di riassetto dei palazzi di giustizia. Si tratta di una struttura che praticamente dopo la sede centrale sarà quella di maggior riferimento per la città. Infatti, quando il trasloco sarà completato ad essere riuniti saranno ben tre settori con circa un centinaio di dipendenti in servizio. Dell'ex tribunale è rimasto attivo soltanto il giudice di pace. Si tratta di un grande immobile con annesso un autoparco e un parcheggio da tempo abbandonati. Abbiamo concretamente cominciato a mettere in atto la politica dell'abbattimento dei costi relativi agli affitti, sottolinea l'assessore all'ambiente e al verde Diego Campione per cercare di ridare l'infa al nostro bilancio. Credo che sia doveroso tentare di trovare soluzioni alternative per risparmiare. È una necessità, ma anche un segnale che vogliamo dare alla cittadinanza che questo comune sta lavorando proprio in questa direzione. In questo caso, la parola spending review mai è stata così azzeccata. Infatti, non c'è solo la politica dell'abbattimento degli affitti dietro questa manovra. Da settimane sono direttamente gli operai del comune che stanno rimettendo in piedi i vari uffici. I locali sono stati ritinteggiati e sono stati anche messi a punto interventi di piccola manutenzione, come ad esempio la sistemazione degli infissi in molti casi in cattive condizioni. Non solo, sarà rimesso in sesto anche lo spiazzo del parcheggio e box annessi. L'idea è quella anche di creare un piccolo autoparco in cui riunire i mezzi a disposizione dei settori dell'ambiente verde e manutenzioni. Un modo anche per arginare le spese in capo all'ente municipale che da tempo soffre di una grave crisi di liquidità dovuta in parte alla sempre più ampia sacca di morosi dei tributi. Sabato prossimo, 24 gennaio, ricorre la memoria liturgica di San Francesco di Sales che è la chiesa proclamato patrono dei giornalisti di tutto il mondo. È il giorno in cui viene diffuso in sette lingue il messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quest'anno la 49esima che si terrà per la domenica dell'ascensione. Come tradizione a Trapani il Vescovo incontrerà e offrirà una riflessione ai giornalisti per una condivisione reciproca. L'incontro si terrà appunto sabato giorno della festa dei giornalisti alle 10 presso il Polo Culturale San Rocco spazio dedicato dalla chiesa trapanese alla ricerca e al dialogo culturale delle arti. L'incontro sarà preceduto per la prima volta da momento di preghiera una sosta di raccoglimento per sostenere l'impegno di una professione delicata e sottoposta sempre a nuove difficoltà e per ricordare i giornalisti defunti. E noi ci fermiamo qui grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.